ecco cari uncinettine cosa voglio farvi vedere in questo tutorial un po' di tempo fa ho fatto il tutorial del punto gelsomino è un punto molto molto bello e adesso vi voglio far vedere come si lavora anche il triangolo col punto gelsomino che è proprio questo qua guardate com'è carino sembra tutto fiori foglie non lo so è una cosa bellissima e con questo quadrato poi quadrato ok triangolo poi certo si possono creare tantissime cose ecco io ne ho qua un bel po' 5 6 non so quanti ne ho fatti fino adesso pensavo di fare un progettino di una borsa ma insomma vediamo cosa salta fuori comunque in questo tutorial vi faccio vedere come si lavora ecco mettendole così insieme vedete così cioè un lato e una cima lato e cima potete ottenere delle coperte delle sciarpe perché no anche delle borse come dicevo io vorrei fare una borsa però adesso come come poi ho detto vediamo cosa salterà fuori e sì certo se salta fuori una cosa bella facciamo anche il tutorial però comunque se no l'idea è che si possono fare tante altre belle cose con il triangolo col punto gelsomino io questo qua lo lavoro con uncinetto da 4 mm e con un filato di cotone misto acrilico quindi proprio 50 50 molto bello da drops che è in due colori cioè questo verde non lo so come si lo vedete voi ma è un verde militare e quest'altro che è un verde olivo sì diciamo verde olivo per me sì sì sono questi due colori cominciamo con il centro quindi faremo tre punti nocciolina li uniamo proprio in un cerchietto così piccolino dopo di che tagliamo e cambiamo il colore sono praticamente come vedete due uno due tre giri questo è il primo con tre noccioline il secondo è questo verde olivo e poi il terzo è questo qua con verde militare di nuovo allora vi volevo dire che per il punto l'elaborazione del punto gelsomino vi lascio il link su da qualche parte in un'annotazione non starò adesso in questo tutorial a spiegare come si lavora il punto gelsomino ma proprio come si lavora il triangolo col punto gelsomino quindi iniziamo praticamente con il nodino iniziale iniziamo con il nodino iniziale facciamo quattro catenelle e come vi dicevo iniziamo con la prima nocciolina nella prima catenella ma come vi dicevo questo l'ho spiegato già per bene nel tutorial del punto gelsomino perciò non insisto ok questa è la mia prima nocciolina la chiudiamo e facciamo di nuovo con questa qua saranno quattro catenelle quindi una, due, tre, quattro e in questa qua di chiusura entriamo e lavoriamo un'altra nocciolina ok con tre punti altissimi cioè due perché abbiamo i tre le tre catenelle che tengono il posto al primo ok e chiudiamo una, due, tre, quattro catenelle con la catenella di chiusura dell'ultima nocciolina e facciamo un'altra nocciolina dicevo facciamo tre noccioline per il centro del nostro triangolo chiudiamo con un punto con una catenella e adesso queste tre proprio così come sono le uniamo quindi nella prima catenella iniziale entriamo con un prima catenella iniziale ok bene nella catenella iniziale entriamo con un uncinetto e con un punto bassissimo chiudiamo e questo sarà il nostro primo giro tagliamo quindi il filo facciamo il nodino di sicurezza eccolo qua e tiriamo forte questo è il nostro inizio molto semplice adesso si complica un po' la situazione ma non molto quindi praticamente come vedete qua noi abbiamo tre noccioline unite la prima con l'ultima e abbiamo gli spazi tra le noccioline quindi uno due tre ecco in questi spazi vedete che qua in mezzo si è creato proprio un un triangolo ecco in questi tre spazi uno due tre tra le noccioline lavoreremo gli angoli del triangolo ecco perché praticamente noi in questo giro questo col verde ulivo lavoreremo gli angoli vedete lavoriamo qua qua e qua qua lavoriamo quattro noccioline tutto ciò che vedete qua viene lavorato diciamo insieme tutto incluso questo qua quindi tutta questa parte e poi si ripete qua e qua perciò facciamo di nuovo il nostro nodino iniziale cambiando il colore e entriamo proprio qua dove abbiamo chiuso entriamo abbiamo da lavorare molto in questo spazio qua tra le noccioline perciò sarà un po' difficile perché questo qua è proprio stretto ok prendiamo uniamo il colore e facciamo quattro catenelle no? quattro e ancora due punti altissimi sempre qua e in a come vi dicevo sempre qua due punti altissimi per la nostra prima nocciolina la nostra prima nocciolina chiudiamo la chiudiamo da sola quindi abbiamo tre anelli sull'uncinetto filo sull'uncinetto chiudiamo facciamo una catenella adesso ne facciamo ancora tre catenelle no? quattro con questa iniziale entriamo in questa iniziale due volte filo sull'uncinetto così entriamo in questa iniziale prendendo se possibile proprio due parti ok e lavoriamo ancora due punti alti altissimi scusate due ok questa nocciolina però ok due questa nocciolina però non la chiudiamo perché veniamo a lavorare ancora una qua nella base avviciniamo un attimino meglio no? veniamo a lavorare un'altra sempre qua nella base dove abbiamo lavorato la prima quindi due volte filo sull'uncinetto entriamo proprio nello stesso spazio qua e lavoriamo ancora tre punti altissimi non chiusi tenendo questi tre sull'uncinetto uno due tre praticamente questi quindi abbiamo tre più tre sei anelli sull'uncinetto filo sull'uncinetto chiudiamo tutto insieme con una catenella ok abbiamo lavorato il primo non lo so modulo diciamo dell'angolo del primo angolo del triangolo adesso lavoriamo ancora una nocciolina ho fatto tre catenelle una nocciolina che andremo a chiuderla da sola quindi lavoriamo i nostri si sfilaccia un po' infatti questo era un filato che scriveva che non era adatto per l'uncinetto però io comunque mi sono rischiato perché mi piacciono i colori e la consistenza dicevo un'altra nocciolina che la chiudiamo da sola adesso ne facciamo un'altra uno due tre quattro con la catenella di chiusura due volte filo sull'uncinetto entriamo nella catenella di chiusura della nocciolina precedente e facciamo uno e ancora uno però questa nocciolina non la chiudiamo ne lavoriamo ancora due dopodiché chiudiamo tutte e tre insieme la seconda la lavoriamo qua quindi sotto la nocciolina che l'ho chiusa da sola questa qua e la terza nella base quindi due volte filo sull'uncinetto entro proprio qua come dicevo e inizio a lavorare la mia seconda nocciolina uno due e tre ok ho lavorato anche la seconda quindi una due non le chiudo due volte filo sull'uncinetto e vengo come dicevo qua nella base a lavorare la terza nocciolina adesso sull'uncinetto adesso sull'uncinetto abbiamo tre tre e tre quindi nove anelli sull'uncinetto e le nostre tre noccioline che le uniamo insieme filo sull'uncinetto e passiamo tramite tutti nove anelli sull'uncinetto filo sull'uncinetto una catenella per chiudere guardate cosa abbiamo fino a qua praticamente noi abbiamo fatto una nocciolina poi da qua abbiamo fatto una non l'abbiamo chiusa ne abbiamo fatto un'altra qua e le abbiamo chiuse insieme questi due poi abbiamo fatto questa praticamente insomma abbiamo fatto una scusate questa una e dopo ne abbiamo fatte una due tre e le abbiamo chiuse insieme adesso dobbiamo fare un altro altre due diciamo due così per chiuderle insieme e iniziamo una qua e una qua uno due tre quattro con la catenella di chiusura non vi scordate ok entriamo nella catenella di chiusura e lavoriamo due punti altissimi non li chiudiamo no ok prima nocciolina e la seconda sempre nella base due volte filo sull'uncinetto entriamo qua un po' stretta la situazione entriamo qua e lavoriamo tre punti altissimi uno due cosa ho fatto qua uno quindi due e l'ultimo meno male non avevamo più posto qua ok sei anelli sull'uncinetto uno due tre quattro cinque sei e filo sull'uncinetto chiudiamo tutto filo sull'uncinetto e facciamo una catenella praticamente noi vedete sembra un trifoglio praticamente noi abbiamo lavorato il primo angolo del secondo giro quindi il primo angolo del nostro triangolo anche nel quarto giro lavoreremo questi uno due tre che è qua tre angoli però sui bordi lavoreremo uno due tre gruppi da tre uno due tre poi l'angolo uno due tre l'angolo uno due tre e praticamente con questa lavorazione se noi vogliamo realizzare un triangolo grande possiamo andare avanti può andare avanti con la lavorazione ok ugualmente dobbiamo lavorare nel prossimo spazio tra le noccioline dicevo i tre angoli li lavoriamo tra le noccioline quindi qua abbiamo lavorato uno nei prossimi due angoli tra le noccioline lavoriamo i prossimi due i prossimi due trifoli qua e cominciamo ugualmente stavolta due volte filo sull'uncinetto entriamo qua prendiamo solo una parte perché così è più largo e avete visto quanto abbiamo da lavorare meglio e facciamo tre punti altissimi questa è la prima nocciolina che la dobbiamo fare come abbiamo lavorato qua e uniamo insieme una catenella adesso ne dobbiamo fare due noccioline vi ricordate una qua e una qua e che andiamo a unirle insieme tre catenelle due volte filo sull'uncinetto e proprio qua in cima a questa già lavorata nella catenella di chiusura entro e lavoro due punti altissimi non chiusi ok questo è uno e due volte filo sull'uncinetto entro nella base e lavoro ancora tre punti altissimi ok ecco questi sei anelli che li ho sull'uncinetto filo sull'uncinetto vado a chiuderli insieme ok va bene abbiamo lavorato il primo modulo no questo qua adesso dobbiamo andare a lavorare questo qua quindi praticamente uno e uno due tre questi che se vi ricordate li abbiamo chiusi insieme quindi uno da solo e i tre da chiudere insieme dopodiché lavoriamo i due da chiudere insieme ok andiamo a lavorare tre catenelle e due punti altissimi nella catenella di chiusura dell'ultimo dell'ultimo ultima nocciolina ultime due no che le abbiamo chiuse insieme ok queste la chiudiamo da sola e adesso andiamo a lavorare la prima delle tre che le chiudiamo insieme ecco uno e due prima nocciolina la seconda la facciamo alla base di questa qua solitaria no questa saltiamo questa qua e qua alla base due volte filo sull'uncinetto entriamo nella catenella di chiusura e iniziamo a lavorare tre punti altissimi che non li chiudiamo due e tre ok due noccioline la terza invece la lavoro qua nella base e faccio di nuovo tre punti altissimi che non vado che andrò a chiudere insieme a quelle altre due noccioline rimaste nove anelli sull'uncinetto e tre noccioline aperte filo sull'uncinetto passiamo tramite tutto chiudiamo con una catenella e così abbiamo lavorato anche diciamo questa 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 cima qua noccioline adesso abbiamo da lavorare questi due quindi uno qua e uno qua uno e uno ecco uno e uno iniziamo con tre catenelle due tre due volte filo sull'uncinetto entriamo qua nella catenella di chiusura e facciamo uno un punto altissimo e due non chiudiamo non chiudiamo la nocciolina perché andiamo a lavorare un'altra di nuovo nella base uno e due e tre punti altissimi per l'ultima nocciolina del secondo angolo se anelli sull'uncinetto filo sull'uncinetto chiudiamo tutti insieme con una catenella ok vi faccio vedere quindi abbiamo due angoli già creati adesso dobbiamo lavorare il terzo proprio qua dopodiché veniamo qua e chiudiamo tutto insieme lavorate da soli il terzo proprio come il primo e il secondo quindi ugualmente praticamente noi cominciamo adesso a fare la prima nocciolina qua nel terzo angolo no? ecco così facciamo tre punti altissimi due tre noccioline nocciolina la chiudiamo insieme da sola e poi cominciamo con le due noccioline una qua una qua dopodiché una solitaria e così via per finire questo secondo giro quindi questo terzo angolo del secondo giro ho finito quasi perché devo chiudere le ultime due noccioline filo sull'uncinetto e adesso ho finito anche il terzo angolo entro con l'uncinetto per chiudere proprio nella catenella di chiusura di questo primo primissimo prima primissima nocciolina lavorata qua quindi qua da qualche parte faccio un punto bassissimo e posso anche tagliare il filato perché un dino di sicurezza volevo fare sì posso anche tagliare il filo perché mi metto cioè il terzo e l'ultimo giro lo lavoreremo con di nuovo con il verde militare allora come vi dicevo adesso l'antoniamo un pochettino come vi dicevo eccoci qua abbiamo fatto il mezzo cioè adesso per il prossimo giro noi cominciamo qua no? cominciamo qua perché qua abbiamo finito e come vi dicevo qua abbiamo uno, due, tre gruppi sul lato uno, due, tre gruppi da tre punti nocciolina quindi come si lavorano questi semplicemente come questo qua primo dell'angolo quindi questo qua primo dell'angolo uno normale e due insieme uno qua uno alla base quindi qua tra di loro praticamente qua tra di loro uno, due, tre sono questi punti dove andremo a mettere questi gruppetti da tre uno, due, tre perché qua in cima al triangolo faremo di nuovo una cosa del genere un'unità del genere cioè un angolo quando dico un angolo si tratta di uno di questi tre faremo di nuovo un angolo dopodiché andremo a lavorare di nuovo uno, due, tre però come vi dicevo noi adesso iniziamo qua e praticamente iniziando qua faremo uno e due e poi l'angolo perché abbiamo uno due tre faremo un gruppo da tre due gruppi da tre e poi lavoreremo l'angolo ok iniziamo col nodino certo il nostro nodino iniziale entriamo proprio qua dove abbiamo finito il nostro giro potete incominciare da dove volete io comincio da qua perché così sapete bene lavoro anche le codine ok se riesco oggi niente mi riesce non so perché ok bene iniziamo con quattro catenelle no? quattro due volte filo sull'uncinetto entriamo nella base qua da dove siamo partite facciamo un punto altissimo e due che andiamo a chiudere insieme con una catenella e questo è il nostro la nostra prima nocciolina no? che la lavoriamo da sola come vi dicevo la lavoriamo da sola volevo avvicinarmi un po' ok e le due che le lavoriamo uno e due uno e due e le chiudiamo insieme quindi facciamo ancora tre catenelle due volte filo sull'uncinetto entriamo nella catenella di chiusura qua ok e facciamo un punto altissimo che non lo chiudiamo normale e ecco il secondo punto altissimo ok ecco la mia prima nocciolina delle due e adesso entro di nuovo qua nella base dove lavoro un punto altissimo due punti altissimi e tre per la seconda nocciolina ecco e vieni anche tu dai per favore ok rimani così se vuoi quindi abbiamo le due noccioline sei anelli sull'uncinetto filo sull'uncinetto passiamo tramite tutti insieme e chiudiamo con una catenella quindi e questo è il gruppo da tre di quale vi parlavo e dobbiamo e dobbiamo averne come abbiamo qua uno due tre noi abbiamo partito noi sì bene noi siamo partite qua no? in mezzo praticamente siamo partite qua quindi dobbiamo fare ancora uno dopodiché il modulo dell'angolo eccoci qua quindi di nuovo uno da tre qua entro con uncinetto nello spazio tra le noccioline e comincio con la mia nocciolina solitaria due tre la chiudiamo e adesso facciamo queste due uno due tre entro qua e comincio a lavorare ancora due punti altissimi uno e due ecco non la chiudo due volte filo sull'uncinetto entro qua nella base ne faccio ancora tre punti altissimi due vado un po' più veloce perché ormai è la stessa cosa no? ripetiamo non è che così e chiudo insieme con una catenella ecco i miei due moduli già fatti qua sul lato e dovrò completare alla fine del mio giro dopo aver fatto anche l'ultimo modulo dell'angolo qua il terzo nucleo da tre dice ok e adesso vi faccio vi lascio comunque realizzare da sole l'angolo perché l'abbiamo già lavorato uno due tre volte adesso cominciamo proprio qua due tre proprio qua in mezzo a questi due quindi in cima al nostro angolo ecco entriamo proprio qua e iniziamo a lavorare di nuovo l'angolo uno due tre questa è la nocciolina solitaria e insomma così via chiudiamo ok facciamo tutto l'angolo tutta questa cosa qua dicevo tutta una una due poi uno uno due tre e poi uno due quindi tutto questo angolo dopodiché quando abbiamo finito di fare tutto l'angolo saltiamo qua e facciamo le tre noccioline qua tre noccioline qua tre noccioline e insomma qua di nuovo un angolo tre noccioline tre noccioline tre noccioline qua l'angolo e tre noccioline qua ok vi facevo vedere io ho finito il mio angolo primo angolo quindi tutto qua vedete ho ripetuto proprio tutta questa sequenza qua qua io ho finito il mio primo angolo e adesso devo fare i miei tre moduli uno due tre tre così qua ne ho due noccioline quindi faccio qua entro qua e ne faccio una nocciolina normale quindi tre punti altissimi e poi le due no? e ripeto questa cosa ecco così e poi una e due che le unisco insieme no? per avere questi gruppetti qua faccio una qua una qua vedete quindi una qua una qua e una qua poi qua nell'angolo proprio qua tra queste due faccio un altro angolo vengo a completare uno due tre e qua un altro angolo e poi qua ne faccio un'altra nocciolina proprio qua quindi qua faccio l'angolo vedete qua faccio l'angolo proprio sotto alla base di questa faccio il nucleo da tre e chiudo nella prima nocciolina qua ok finite il tutto e dopo di che vi faccio vedere come ho trovato io dei modi per unirli insieme ho finito anche il mio terzo angolo come vedete e devo solo completare ecco come vi spiegavo qua sotto la nocciolina quindi qua in cima ho lavorato tutto il modulo dell'angolo e qua sotto devo lavorare l'ultimo gruppo da tre per completare anche quest'ultimo lato dopodiché posso dire che ho finito il mio triangolo con il punto gelsomino e come vi dicevo vi volevo far vedere come come fare per unirli tra di loro anche qua alla base uno non questi due che li facciamo ultimi due che li lavoriamo insieme ecco uno due e tre chiudiamo e come di nuovo come vi dicevo qua in cima alla prima nocciolina praticamente vengo e chiudo con un punto bassissimo come abbiamo fatto anche nel secondo giro taglio il filo e faccio di nuovo il nodino di sicurezza e voilà il mio triangolo col punto gelsomino adesso come vi dicevo voi potete unirli tra di loro quindi dicevo così se volete creare una sciarpa così un lato una cima dicevo no? e andando avanti così potete creare delle sciarpe o delle coperte ecco così borse e tante tante altre cose vi facevo vedere solo così per curiosità è molto semplice diciamo lavorare con con i triangoli perché vedete si uniscono così tra di loro è debilissimo adesso per unirli tra di loro noi possiamo fare così cioè mettiamo due così e li uniamo in ogni nocciolina praticamente noi su un lato con queste due una diciamo contiamo dall'angolo uno due tre quattro cinque sei e sette quindi da un angolo all'altro abbiamo sette noccioline allora le possiamo unire anche così se vogliamo avere un bordino un po' diciamo particolare proprio con l'ago entrando così nel terzo vi faccio vedere vi faccio vedere vi faccio vedere prima di tutto vi faccio vedere questo perché è più facile ce l'ho qua alla portata di mano quindi una modalità è con l'ago che ve la faccio vedere dopo un'altra è con il filo quindi praticamente noi entriamo sempre nella terza terzo punto alto della nocciolina del bordo quindi qua entriamo con l'uncinetto e sempre su nel terzo qua ecco no della prima della prima nocciolina quindi questa dell'angolo ok passiamo tramite tutte e due e cosa facciamo qua lavoriamo qua lavoriamo ok io come vi dicevo oggi proprio non ci sono ok facciamo così e facciamo un'altra volta ok così bene una catenella e entriamo come vi dicevo di nuovo qua e lavoriamo tre due tre e quattro quattro punti bassi poi passiamo nel prossimo nella prossima nocciolina oh ma voi vedete cosa sto facendo io qua avviciniamo un po' nella prossima nocciolina sia da una parte che dall'altra nell'ultimo punto alto e continuiamo con altri quattro punti bassi uno due tre e quattro ok passiamo nella prossima nocciolina sia da un lato che dall'altra la terza e facciamo di nuovo quattro punti bassi due tre e quattro ok e di nuovo nella prossima nocciolina facciamo la stessa cosa uno due tre e quattro bene e nella prossima nocciolina ugualmente uno due tre e quattro vedete e viene fuori una cosa del genere che sta anche bene in rilievo così e andiamo a fare l'unione adesso non la faccio perché io come vi dicevo per adesso lavoro dei triangolini poi vediamo cosa salta fuori e si ne abbiamo ancora da unire due no e sono uno due tre quattro cinque sei sette come vi dicevo e viene un bel lavoro qua in rilievo vi immaginate tutto insieme per una copertina o anche per come dicevo per una borsa ciò che io ho nella mente di fare viene una cosa bellissima bene dispo perché non come dicevo non è che lo voglio per adesso unire non è che voglio finire tutto e vi faccio vedere un'altra modifica invece se vogliamo cucirle con l'ago entriamo nella terza nel terzo punto punto centrale non terzo il secondo di ogni nocciolina quindi praticamente è questa la linea io ho cominciato qua un pochettino e questa la linea che la dobbiamo seguire e anche così adesso vado avanti un pochettino per farvi vedere quindi entriamo così e cuciamo nella terza nel secondo non so cosa ho col terzo nel secondo giro e poi qua in mezzo tra di loro e praticamente anche in questo modo ci rimane fuori una bella ecco così ci rimane fuori una bella un bel bordino in rilievo cuciamo sempre nel nel secondo punto ecco vi faccio vedere vedete come viene sempre così con un bel ecco praticamente si apre un po' così ok quindi entrambi i modi dico io sono carini e ok è tutto qua ecco un altro modo per lavorare il punto gelsomino è per creare delle belle cose spero vi sia piaciuto e al prossimo tutorial via